Di giorno funzionava come un lido balneare con tanto di piscina aperta al pubblico. La sera diventava un locale da ballo dove venivano organizzate feste private ed eventi musicali, tutto rigorosamente abusivo. E' quanto hanno scoperto i finanziari del comando provinciale di Foggia che nell'ambito di una serie di controlli hanno messo i sigilli ad una struttura ricettiva di Stornara, registrata ufficialmente come un'associazione sportiva dilettantistica. In base a quanto emerso dagli accertamenti delle Fiemme Gialle, i locali della sede dell'associazione erano stati adibiti legalmente a Bed & Breakfast sponsorizzato anche su alcune piattaforme online specializzate nella prenotazione di alloggi. Dotato di sei stanze, bar ed un'area dotata di lettini, ombrelloni e spogliatoio, il B&B veniva frequentato di giorno da persone paganti per l'accesso e l'utilizzo dei servizi connessi all'uso della piscina, mentre la sera la struttura era attrezzata per ospitare eventi danzanti e di musica dal vivo, oltre a feste private a bordo vasca. Tutto realizzato in assenza di permessi edilizi ed autorizzazioni relative all'attività ricettiva. Al termine dei controlli, il titolare della struttura è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per gli illeciti amministrativi, oltre che per aver omesso di comunicare alla questura i dati relativi agli ospiti del Bed & Breakfast. Gli immobili abusivi sono stati invece posti sotto sequestro su ordine del Tribunale del Capologo d'Auno, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare i ricavi conseguiti dall'attività e mai dichiarati al fisco.